In questo numero del Salus Tg, Bianco ha assolto tutto il debito formativo solo il 38% dei medici, scoperto il gene che protegge dall'ictus giovanile, gli esperti e aziende sanitarie fondamentali per il futuro dell'SSN. I medici italiani si aggiornano ma non quanto dovrebbero, almeno secondo quanto stabilito dalla legge, che prevede il conseguimento di 150 crediti formativi in tre anni. Hanno infatti assolto tutto il debito formativo solo 4 camici bianchi su 10. E questa è la fotografia scattata da Medeo Bianco, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, a margine della sesta conferenza nazionale sulla formazione continua in medicina a Roma. Quest'anno abbiamo già avviato la comunicazione ad ogni professionista che ha concluso l'iter previsto degli obblighi formativi una certificazione. Siamo circa al 40-45% dei professionisti che hanno contattato il sistema ECM e che hanno assolto il debito formativo. Uno studio internazionale ha scoperto una variante del gene che protegge contro una delle principali cause dell'ictus giovanile. Una nuova chiave per trattamenti contro questa patologia. Le persone che hanno una specifica variante del gene scudo sono protette da un danno a carico dell'arteria cervicale, un vaso che trasporta l'ossigeno al cervello. La sua occlusione può niscare l'ictus. Senza aziende sanitarie non c'è futuro per il Servizio Sanitario Nazionale, ma non si può dimenticare che la sostenibilità del sistema dipende dalla capacità di erogare servizi, prestazioni ed interventi sanitari efficaci ed appropriati e dunque vanno integrate cultura manageriale e professionale. È quanto emerge dall'evento le aziende sanitarie per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale, organizzato dalla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e dalla Fondazione Gimbe.